Oh, ciao, dimmi. Volevo vedere come stavi. Perché? Sembra che sia un atteggiamento utile quando la tua amica del cuore viene rimpiazzata da una donna meravigliosa e intelligente con ardente sensualità di una tigre che guata la preda. Te l'ho già detto, sto bene e non c'è problema. Pensa che sono anche molto... molto felice che... Leonard abbia trovato una donna che lo ama e che lo fa stare bene. Sto tranquilla, sfogati dai. Grazie. E ora attacchiamo gli elettrodi e vediamo che succede nella tua bella testolina. D'accordo.